In provincia di Latina il giorno dopo il boom di casi di Covid-19, 73 in 24 ore, si passa all'azione. L'atteso vertice in prefettura ridimensiona almeno in parte l'allarme. I dati di oggi dovrebbero essere meno preoccupanti, ma l'attenzione resta alta. Ieri dall'Asla è raggiunto l'appello alla cittadinanza ad evitare spostamenti non indispensabili. La sintesi stare a casa può sembrare anche eccessiva rispetto a chi ha delle attività quotidiane necessarie da svolgere. Però l'idea di limitare il più possibile le mobilità inutili o quelle che si possono in qualche modo differire, mi pare che sia un'idea giusta. Verrà rinforzata, come peraltro già previsto, la rete dei drive-in. Il numero arriverà a 4 con altre 3 postazioni Aprilia, Priverno e Gaeta. Attenzione puntata sulle scuole, l'indicazione dove è possibile quella di incrementare la didattica a distanza, specialmente nella fascia 16-18 anni, in attesa della stretta governativa su movide e cerimonie. A Latina verrà anticipata la chiusura notturna dei locali, l'una meno un quarto, durante la settimana l'una e mezza nel weekend.